Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, vogliamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di immensa importanza. Grazie di cuore. Ora, permettetemi di raccontarvi una storia affascinante. Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merck, è un noto cantante, produttore discografico e attore italiano naturalizzato svizzero. Negli anni 60, ha registrato alcuni dischi usando un ulteriore pseudonimo, Rick Mantovani, e ha condiviso la sua vita con la talentuosa Rita Pavone, sua attuale moglie. Tuttavia, nel percorso di Rita Pavone, c'è stato un dolore profondo, una ferita che ha segnato la sua anima. La perdita di una persona cara è un peso che ha portato con sé fino all'ultimo giorno della sua vita. Questo dolore è emerso in un'intervista con Silvia Toffanin durante il 2018, l'anno in cui il fratello Cesare si è ammalato. Rita Pavone ha dedicato tutto il tempo possibile al suo fratello, dimostrando quanto fosse importante per lei questo legame. Ha condiviso con profonda sincerità che ognuno di noi porta con sé storie, dolori e gioie, ma è proprio l'esperienza di affrontare tali sfide che ci rende più forti. Grazie per averci seguito in questa storia toccante. Ci teniamo a ricordarvi il vostro prezioso sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di immensa importanza. Grazie di cuore.